Tu eri un uomo pieno di fede e di gioia, vero? E poi un giorno ti sei svegliato, hai aperto gli occhi, hai guardato il mondo, hai visto che la tua sfortuna è nata. Allora che stavi pronto da fare sacrifici, impegnarti, ti sei accorto che nessuno ti lo chiedeva. Bene, pensavi avere una vita tipo un'epopea e diventata un piccolo salotto borghese dove la gente si soddisfa, no? E anche dove quello come te, che ha un'altra cosa in sé, che porta un altro desiderio e un pazzo, un degenerato. Bene, stavo come te, stavo una bambina adottata, pensavo fare grandi cose nella vita, seguire grandi esempi, essere la moglie di un re, l'amante di un rivoluzionario, che ne so. E vedi, la vita mi ha solo permesso di essere una corteggiana, abbastanza buona, vero? Le donne nel mio genere possono solo invecchiare davanti a una macchina da scrivere al servizio di un... e una fabbrica di soldi, o essere una sorta di prostituta. Pensi che non ti capisco, pensi che non posso capire la paura che hai di andare a ballare nelle taverne, di sentirti diverso. Il timore al fronte della guerra, al fronte del modo in cui la gente pensa, legge, costruisce, ti capisco troppo bene. Sono come te, però un mondo come oggi non è felice quello che è come io, come me o come te, lupo delle steppe. Hai ragione, mille volte hai ragione, però devi sparire. Perché è finito? Mi hai detto sì? Ah no, perché quello che è come te o come io, quello che vuole dei capolavori musicali e non delle melodie di pacotiglia, delle taverne, quello che vuole delle passioni assolute e non dei passatempi divertenti, non è a casa sua in questo mondo. La sola libertà che hanno gli esseri liberi è di uccidersi. Dai, andiamo a ballare. Mi chiamo Carlo Taverni, sono attrice francese e ho portato questo pezzo di un spettacolo che ho scritto per il teatro. È un adattamento di un romanzo di Herman Hesse che si chiama Il lupo delle steppe. Grazie. Grazie.